Oggi la presentazione è la nona edizione del Digital Meet, oggi con il recovery 40 miliardi per poter far sì che anche l'Italia vada al passo con il mondo, non con l'Europa ma con gli stati più avanzati tipo Cina e Stati Uniti. Oggi presentiamo tra l'altro anche una ricerca di infocamera che vede una cosa che pochi conoscono, che il digitale si tinge di rosa, 25% delle aziende digitali sono al femminile, credo che questo sia un aspetto importante e fondamentale per la crescita di ognuno di noi all'interno della nostra nazione. L'importante è l'educazione ai tempi del digitale, un'educazione che passa sicuramente con investimenti a partire dalla formazione professionale alle lauree cosiddette STEM, Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica e chiaramente quello che è un aspetto che tante volte ci diciamo che è la formazione continua. Abbiamo raggiunto una rete importante nel paese presente in tutte le 20 regioni italiane con i nostri ambassador, si tratta di 300 speaker con 130 eventi, insomma una grande fatica per portare nel paese la cultura dell'alfabetizzazione digitale, delle competenze. Quindi grazie, grazie a tutti voi. Grazie a tutti.